Buonasera e bentrovati a Ultima Tg, in apertura del nostro telegiornale il sit-in per dire basta alle aggressioni al personale medico presenti. Questa mattina a Piazza Politeama a Palermo le maggiori cariche istituzionali della Regione. Stop alla violenza sui camici bianchi. E' questo il messaggio che arriva da Piazza Politeama a Palermo dove si è tenuto il sit-in organizzato dall'Ordine dei Medici e che ha visto la partecipazione delle istituzioni e la loro vicinanza al personale sanitario. E abbiamo individuato la sicurezza come un diritto che significa diritti dei cittadini alla salute, diritti dei lavoratori di operare in condizioni di sicurezza, significa anche una diversa organizzazione. E l'assessore ha preannunciato linee guida che sono volte ad evitare l'incivile lunga attesa di familiari in un sistema di grande confusione che crea tensione e al tempo stesso occorre che funzioni meglio la medicina sul territorio perché troppi vanno nel pronto soccorso senza che ve ne sia bisogno. Per questo bisogna distinguere la parte che si riferisce ai codici bianchi, ed ed e verdi da quelli rossi e gialli. Guardie giurate, ma soprattutto interventi infrastrutturali. Non è un caso se già lo scorso anno quando si sono dovute impegnare le risorse della ex gestione sanitaria centrata abbiamo voluto privilegiare il pronto soccorso. Sono stati investiti 40 milioni di euro, chiederemo uno sforzo ulteriore per il 2019, dare luoghi di accoglienza adeguati è uno dei metodi migliori per evitare che le persone non le possano infastidirsi. Non servono prese di posizioni, chiamare polizie e cose perché sono utili, sì, videosorveglianza. Probabilmente bisognerà incidere, lo dico in termini provocatori, che chi attacca un bene comune e che ha un valore, questo bene comune sarebbe bene che da quel momento in poi perdesse la capacità di poter usufruire gratuitamente del bene comune. La notte scorsa la Commissione Bilancio all'Arsa ha approvato la manovra finanziaria. All'interno del documento non rientrano i tagli del 10% che erano stati paventati nei confronti di arte e cultura e che avrebbero sottratto in particolare al Teatro Massimo Bellini di Catania circa 2 milioni di euro, provvedimento che avrebbe creato enormi disagi in vista della stagione lirica di Catania e Taormina. Adesso si attende che il documento venga approvato lunedì in seduta assembleare. Cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'operazione Anno Zero che ha portato in manette 21 persone vicine al boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Tra i business sviluppati proprio dagli uomini affiliati a Denaro ci sono anche siti online di scommesse, un fiume di soldi che arriva anche a Catania con il coinvolgimento dei placenti imprenditori vicini alla famiglia di Nitto Santa Paola. Non solo energie rinnovabili, controllo totalizzante delle attività economiche nel settore edilizio, negli appalti pubblici, grande distribuzione alimentare, ma anche il mondo delle scommesse online. E' questo il nuovo business della mafia vicina al latitante Matteo Messina Denaro, un nuovo modo per ripulire il denaro della criminalità organizzata attraverso un sistema apparentemente lecito. L'operazione Anno Zero che ha portato all'arresto di 21 persone, tra cui i cognati del boss stragista vicino a Totorrina, svela un sistema fatto di imprenditori e amici disposti a farsi spazio e a far crescere la fitta rete di negozi dediti alle scommesse, anche quelle illecite, un fiume di soldi che arriva fino a Catania. Tra gli arrestati con l'accusa di concorso esterno e un'associazione mafiosa c'è anche un giovane imprenditore di Castelvetrano, Carlo Cattaneo, titolare di una lucrosa serie di agenzie utili anche a garantire il sostentamento economico del circuito familiare di Matteo Messina Denaro. Cattaneo in cambio riceve autorizzazioni e la benedizione di tutti, rapporti stretti, prima con Francesco Guttadauro, nipote di Messina Denaro e gestore della cassa del clan, alimentata dai siti di scommesse, poi con Saro Allegra, il cognato del boss. Cattaneo è dentro la sua Jaguar con un'amica quando parla del suo lavoro e del nuovo giro con alcuni soci di Catania. Ci siamo divisi le zone, dice, io mi occupo di questa zona e loro di quella. Chi è poi più bravo va in Sardegna, lì non c'è il limite. Parallelamente ai siti di gioco online ci sono quelli illegali all'interno della stessa piattaforma con l'estensione .com, dove è possibile quotare le scommesse sugli eventi sportivi a condizioni decisamente più favorevoli per gli scommettitori. I soldi vengono poi nascosti bene attraverso le carte di pagamento Skrill. Qui si possono versare somme di denaro, si possono spostare soldi, si può prelevare il contante allo sportello con il solo indirizzo e-mail, senza lasciare traccia sulla titolarità dell'operazione. Catanio sviluppa la propria attività imprenditoriale grazie alla mafia, creando anche legami con i fratelli placenti di Catania, imparentati con la famosa famiglia catanese di Benedetto Santa Paola. Sono loro a gestire il business delle scommesse online nel territorio catanese e sono sempre loro che vogliono ingrandirsi ed aprire una serie di agenzie a Palermo. Per questo Carmelo Placenti, che conosce bene le logiche territoriali, si rivolge a Ciccio Guttadauro, il nipote di Matteo Messina Denaro, per poter aprire le nuove agenzie nel territorio palermitano. Il giorno dopo la storica sentenza che ha condannato alcuni esponenti delle istituzioni italiane, certificando di fatto la trattativa fra Stato e mafia, a Palermo c'è voglia di conoscere adesso tutta la verità sul caso. Roberto Ghiifari ha sentito per noi l'associazione Addio Pizzo. 8 minuti per riscrivere la storia. Tanto c'è impiegato il giudice Alfredo Montalto per dire che non solo la trattativa tra Cosa Nostra e Pezzi dello Stato c'è stata, ma che ad averla fatto sono stati i boss mafiosi, tra altri ufficiali dei Carabinieri e il fondatore di Forza Italia. Il giorno dopo la storica sentenza che ha condannato i vertici dello Stato, Palermo si è risvegliata con la voglia di conoscere tutta la verità su quanto accaduto subito dopo le stragi del 92. E a chiedere chiarezza sono soprattutto i ragazzi di Addio Pizzo che da 16 anni sono impegnati nel territorio per diffondere i concetti cardine della legalità. Noi, la ragion d'essere del nostro movimento originariamente era quella di promuovere fenomeni di resistenza al racket delle estorsioni, coinvolgendo commercianti ed imprenditori da un lato e dall'altro cittadini che potessero sostenere questi operatori economici con la pratica degli acquisti. Negli anni ci siamo convinti che non è più sufficiente fare tutto questo, ma è necessario lavorare sul territorio per cercare di rimuovere le sacche di povertà educative, di degrado sociale ed economico, da dove poi si genera il malcostume, l'illegalità diffusa e la criminalità organizzata. Da questo punto di vista siamo impegnati da anni oramai a Piazza Maggione dove lavoriamo con ragazzi con i quali si svolgono attività di inclusione socio-educativa assieme a tutta un'altra serie di associazioni che sono presenti sul territorio, assieme alla Scuola Ferrara che è presente su Piazza Maggione, proprio per cercare di ridurre le gravi marginalità sociali ed educative che insistono in questo quartiere ma in tanti altri quartieri della città. E' stata affermata dai carabinieri una banda specializzata in furti con spaccate per estrarre e rubare Bancomat da banche e uffici postali nelle province di Catania, Siracusa e Enna. La tecnica, collaudata ed efficace, era sempre la stessa. Il furto di un camion o di un escavatore per estrarre la cassaforte dello sportello Bancomat, portarla via e aprirla in un posto sicuro. Ha agito con velocità e determinazione la banda specializzata in assalti ai danni degli ATM delle province di Catania, Enna e Siracusa, ma ha anche operato con qualche distrazione di troppo. Formato da otto persone con base logistica a Librino, il gruppo è stato fermato a seguito delle indagini dei carabinieri della compagnia di Gravina coordinate dalla procura. Le intercettazioni ambientali hanno consentito di dare una svolta insieme al confronto delle fotografie, dei profili Facebook e i fotogrammi delle riprese di videosorveglianza registrate durante gli assalti. Nelle immagini alcuni componenti del gruppo indossano gli stessi abiti. Il provvedimento del GIP è stato eseguito nei giorni scorsi, ma la notizia ha trovato conferma soltanto adesso, dopo che due dei destinatari dell'ordinanza, sfuggiti al Blitz, si sono costituiti. Gli arrestati sono Rosario Ragonese di 41 anni e ancora Massimo Grasso di 42, Salvatore Musumeci di 24, Rosario Puglisi di 27, Santo Ravasco di 24, Federico Silicato di 29, Alessio Viola di 30 e Salvatore Viola di 36. Da quanto accertato dalle indagini, in due occasioni il gruppo non avrebbe esitato per favorirsi la fuga a travolgere un poliziotto e un carabiniere. Non solo escavatori per realizzare i colpi, ma anche autovetture. Il 5 febbraio del 2018, invece, la banda tentò di far esplodere il postamat a Valguarnera Caropepe, servendosi di una bombola di gas con miccia collegata ad un detonatore. Dalle intercettazioni eseguite dai carabinieri è emersa la volontà di gambizzare a colpi di fucile due ex affiliati che erano passati ad un gruppo rivale che agiva nello stesso settore. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 75 anni che è al culmine di una lite scoppiata per questioni di vicinato nelle campagne di Partinico, in provincia di Palermo, ha sferrato due coltellate ad un anziano colpendolo al torace. Ad accoltellare il bracciante di 59 anni sarebbe stato fortunato Cucinella, 75 anni, anche lui pensionato, accusato di tentativo di omicidio. La vittima si è presentata all'ospedale di Partinico e ha raccontato ai medici che è caduto procurandosi dettagli al torace durante l'ora di lavoro. I medici hanno compreso che le lesioni al torace però erano state provocate da un coltello. La vittima è stata operata al polmone, la moglie del ferito, arrivata in ospedale in preda alla disperazione, si è fatta sfuggire qualche elemento utile alle indagini. I militari da lì hanno iniziato le ricerche e sono arrivati in casa di Fortunato Cucinella. Qui hanno trovato i vestiti sporchi di sangue della vittima e dello stesso pensionato. Anche il coltello è stato recuperato. Cucinella, originario di Montelepre, che avrebbe conosciuto il bandito Giuliano, si trova adesso ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Catania per parlare del cantiere di Via Alcide De Gasperi, che torna a lavoro. L'opera, rimasta bloccata per anni per carenza di fondi, verrà ultimata nel 2019. Servirà a snellire il traffico nella vicina circonvallazione. Lavori che ripartono, un'opera che rappresenta più di una via di fuga in caso di calamità naturale. Sopraluogo stamattina nel cantiere del Viale Alcide De Gasperi a Catania. Un passo importante per migliorare il traffico nella zona est della città. La realizzazione e il completamento di Viale Alcide De Gasperi. Il Viale Alcide De Gasperi è una bellissima strada, largamente incompleta, che quando sarà tutta finita collegherà Ognina con Piazza Europa. Una strada che sarà larga oltre 22 metri, una strada che supera la ferrovia, una strada che consentirà una viabilità tra Piazza Europa e Ognina alternativa al lungomare. E a quel punto, quando questa strada sarà completa, la mia idea è quella di chiudere il lungomare al traffico privato e di trasformarlo in uno degli lungomari più belli d'Europa, come già capita quando riesco a farlo la domenica del lungomare liberato, trasformandolo in un posto davvero meraviglioso. Parliamo di un altro cantiere catanese, ovvero quello del tondo Gioieni, disagi, problemi e code chilometriche in tutta la circonvallazione di Catania dopo l'ennesimo caso di traffico bloccato nel pomeriggio di ieri e oggi sono scesi in campo pendolari ai residenti della zona che hanno chiesto nella principale arteria di Catania un piano viario adeguato. Più sicurezza, più controlli e un sistema di telecamere per evitare ogni tipo di manovra pericolosa da parte di coloro che si mettono alla guida. La mobilità del tondo Gioieni in tutta la circonvallazione resta al centro delle segnalazioni di comitati di cittadini e pendolari. Attraversamento di corsie, sorpassi azzardati e tamponamenti mandano sistematicamente il traffico in tilt e non solo nelle ore di punta. Siamo sempre qui a parlare del problema che ormai ci assilla da anni, cioè il traffico al tondo Gioieni. Qui ogni giorno transitano diverse migliaia di automobili e come potete vedere anche oggi che è sabato il traffico è paralizzato perché non è più una questione oraria oppure settimanale. Anche praticamente di sabato e di domenica ci troviamo questa situazione che veramente ci fa paura perché basta anche un piccolo tamponamento per mandare in tilt tutta l'area del traffico. È un problema relativo non solo ad alcune fasce orarie in questa città ma è una problematica quella della viabilità e del traffico che coinvolge ormai le intere giornate. Noi studenti siamo costretti a far fronte a questa problematica in svariate maniere ma soprattutto ad esempio gli studenti della cittadella che devono attraversare quotidianamente anche più corsie è davvero pericoloso. Anche in merito al tondo Gioieni è una problematica grave, ci sono macchine che attraversano con le corsie e non rispettano soprattutto le carreggiate e questo comporta delle problematiche a livello sia di tamponamenti che di investimenti. Sicuramente questo è un problema grave considerato anche che i motocicli comportano problemi per se stessi e per chi effettivamente sta percorrendo le carreggiate di pertinenza. Quindi ecco, questo è uno dei problemi più gravi da risolvere. Stamattina alle ciminiere di Catania si è svolto l'evento Focus sugli incentivi Eco Bonus e Sisma Bonus. Tema centrale la riqualificazione del territorio. Rimettere in movimento l'economia siciliana attraverso la leva dell'edilizia e creare una piattaforma operativa in materia di riqualificazione urbana. Un sistema integrato e innovativo illustrato nel corso del Focus sugli incentivi Eco Bonus e Sisma Bonus. Il Sisma Bonus si interviene direttamente sulle fondamenta dell'edificio perché la parte più debole praticamente è quella e poi anche un miglioramento della struttura in genere perché l'adeguamento sismo comporta questo di qua. In questo caso si può usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge dello Stato. Invece l'efficientamento energetico significa migliorare la qualità interna degli ambienti sia facendo un esempio povero raffreddando gli ambienti d'estate e riscaldandole nel vento. Il patrimonio è ancora quasi all'anno zero, il recupero edilizio. Noi con questa scommessa, con questo forum che oggi abbiamo fatto vogliamo sollecitare sia tutte le imprese a prendere conscienza di queste enormi leggi che ci sono per la riqualificazione energetica e il sisma bonus. La riqualificazione del patrimonio edilizio per il 60% in condizioni devastanti propriere all'Ars il presidente Musumeci ha presentato i numeri neri del patrimonio edilizio scolastico. La scuola in Italia è disastrata un po' dappertutto, la Sicilia non fa difetto e quindi è una priorità anche per il simbolo che rappresenta l'edilizia scolastica, il luogo dell'educazione, delle nuove generazioni in cui dovremmo puntare molte delle risorse che abbiamo a disposizione per il futuro di questa regione ma per il futuro del paese e poi dobbiamo garantire dal punto di vista sismico perché noi non possiamo essere un paese che piange e versa il latte versato dopo che è successo il problema, il dramma. Noi viviamo in un territorio fortemente sismico, tutto l'Apenino, Catania, la zona nord-orientale della Sicilia è particolarmente sismica. È chiaro che bisogna proteggere i nostri ragazzi, le nostre popolazioni ma soprattutto i nostri ragazzi. Una manifestazione promossa dal comitato Esistono i diritti per estendere l'applicazione della marijuana terapeutica si è svolta stamane a Palermo davanti a Palazzo d'Orlean, sede della presidenza della regione siciliana. Vediamo. Venga data ai malati che per diverse tipologie ne hanno bisogno la marijuana terapeutica e che essa siccome è difficile da trovare legalmente venga prodotta legalmente dalla regione. Il comitato Esistono i diritti interviene da Palermo sul costo della marijuana a fini terapeutici. La manifestazione si è svolta davanti Palazzo d'Orlean, sede della regione. La nostra è una manifestazione non di protesta ma di proposta. Noi proponiamo al Presidente, dialoghiamo al Presidente, spesso contra spam, spesso contra spam e noi non vogliamo avere speranza ma vogliamo essere speranza. La cannabis terapeutica è consentita nella cura di una serie di malattie, la fibromialgia, la sclerosi multipla, la terapia del dolore cronico e alcuni tumori. Viene infatti impiegata anche nella chemioterapia. Molte le proteste in tutta Italia dei pazienti, visto che acquistare un grammo di cannabis in farmacia costa circa 20 euro, con una spesa che può superare i 1500 euro mensili. Vorrei che questo fosse un dibattito tutto medico e scientifico e non un dibattito ideologico. A me dispiace quando la politica non fa altro che strumentalizzare questioni che attengono soltanto alla cura della persona. Ed è anche il cartello che noi stiamo esponendo, vogliono dire questo, dobbiamo concentrarci sulla sofferenza di chi ha bisogno di questo piace per attenuare i dolori e per poter avere dei benefici. L'uso terapeutico della cannabis è stato anche al centro dell'attenzione di medici e autorità durante un convegno dal titolo Cannabis Medica, esperienza terapeutica in Sicilia e sistema sanitario regionale, durante il quale il vicepresidente della regione Gaetano Armao, nel video introduttivo, ha parlato della necessità di istituire un tavolo tecnico con medici e farmacisti che si occupano di queste cure palliative. Il convegno, moderato dal farmacista Paolo Minacori, è stato organizzato dal Rotary Club di Agrigento, rappresentato dal presidente Francesco Vitellaro, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici, dei farmacisti di Federfarma Provinciale e dell'Asp1. Dalla giornata di studi è emerso come l'utilizzo terapeutico della cannabis consenta un considerevole innalzamento della qualità della vita per un gran numero di pazienti affetti da dolore cronico nell'ambito di sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, effetti di chemio e radioterapia, ma pochissimi se ne servono a causa del costo elevato e del tutto a carico dei pazienti. Adesso parliamo di una manifestazione avvenuta questo pomeriggio dove alcune centinaia di persone hanno manifestato davanti alla base di Sigonella, siamo a Catania, contro i bombardamenti in Siria per chiedere la smilitarizzazione della Sicilia di strutture statunitensi. C'è stato un tentativo di avvicinarsi all'ingresso della base che ospita la Naval Air Station, una cosiddetta NAS degli USA, che è stato contenuto dalle forze dell'ordine. Una ventina di manifestanti hanno spinto con forza parte della recinzione laterale ma soltanto a scopo dimostrativo senza entrare. L'Italia ancora una volta contestano i manifestanti, adotta un falso neutralismo che nasconde il suo essere schierato dalla parte delle politiche di guerra statunitensi e di essere esportatrice di ordigni che uccidono danni i popolazioni della regione medio orientale. Cambiamo argomento, andiamo al Monastero dei Benedettini di Catania per parlare della presentazione del rapporto Sussiderietà e Giovani al Sud, realizzato dalla Fondazione della Sussiderietà Ospite, il professore Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione. C'è la possibilità concreta per i giovani del mezzogiorno di costruire il proprio futuro nella propria terra, c'è la volontà di investire ed evitare la fuga dei cervelli. Una volontà e una possibilità racchiusa all'interno del rapporto Sussiderietà e Giovani al Sud, presentato a Catania dal presidente della Fondazione per la Sussiderietà, Giorgio Vittadini. Bisogna che il Sud torni ad essere centrale. Operazione Federico II, non il mezzogiorno come periferia del nord, ma al mezzogiorno al centro, capace di intercettare le merci dal Suez allargato, capace di promuovere l'Università del Sud come Università del Mediterraneo per i paesi rivieraschi, il 50% è sotto i 30 anni e quindi può essere il luogo della loro formazione. L'agricoltura di livello alto come è stato per il vino, un turismo di altissimo livello e le piccole e medie imprese innovative. Bisogna spendere i soldi però, i fondi infrastrutturali per il 95% sono rispinti a Bruxelles. Voi capite che non si può fare uno sviluppo quando non si è capace di spendere i soldi per investire in questi settori. Investire sui giovani e sul loro capitale umano, andare incontro ad un cambiamento ma soprattutto a un mutamento del modello di sviluppo che deve essere sostenibile e sussidiario, questa è la strada per un mezzogiorno protagonista. L'Italia se non nasce continuamente dal basso è un paese morto. Il rapporto tra l'uomo solo al comando e il singolo cittadino ha portato al disastro. Bisogna ricostruire i corpi intermedi nel welfare, nell'impresa, nella scuola, nell'università e questo è il nostro futuro anche perché sono questi punti che educano la gente alla cittadinanza, alla responsabilità, alla creatività a uscire dalla crisi. Una mostra fotografica questo pomeriggio a Catania, una città raccontata in chiavi diverse. Mostra Catania narra le bellezze della città, i suoi tratti rappresentativi e le sue contraddizioni. 15 artisti diversi che mostrano tramite le loro opere le virtù della loro terra. Una città raccontata in chiavi diverse. Mostra Catania narra le bellezze del luogo, i suoi tratti rappresentativi e le sue contraddizioni. 15 artisti diversi che mostrano tramite le loro opere le virtù della loro terra. Siamo alla prima edizione, è una mostra, abbiamo dato una tematica, è una mostra di giovani fotografi, abbiamo dato la tematica di riprendere la città in tutte le sue sfaccettature. Mostra Catania vuole riprendere quelle parti di Catania che possono stare, sono state abbandonate, un momento di festa o le parti più belle di Catania. Ognuno, ogni fotografo ha interpretato il tema a suo piacimento. Abbiamo raccolto circa 40 foto e come potete ben vedere la partecipazione è stata massima. Da sempre noi siamo riusciti con il mondo giovanile a portare avanti diverse iniziative. Il nostro slogan è aiutaci a migliorare Catania. Vogliamo idee, vogliamo partecipazione e questo gruppo come sempre deve ancora una volta allargarsi per poter fare questa iniziativa e tante altre. Lo scopo di questa mostra va da colpire i cuori di noi ragazzi catanesi e dei ragazzi più grandi, gli abitanti di questa città. La mostra ha uno scopo terapeutico, diciamo, riscoprire, riguardare Catania con occhi diversi, con quella semplicità che magari manca. Certe volte è appunto riscoprirla e migliorarla perché Catania è veramente una bellezza unica e noi siamo fortunati di vivere in questa città e magari speriamo attraverso eventi di questo genere riscoprire la nostra città, capire quanto è bello, quindi terapeutico in questo senso, che ci faccia bene a noi e che faccia bene alla nostra città è questo. Ci fermiamo per una breve pausa. Ultima Tg torna subito dopo per parlare di sport. Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la Funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa e se sei un tour operator, contattaci. Il 27, 28, 29 aprile c'è la Festa dei Fiori del Carnevale di Acireale. Tra gli straordinari palazzi barocchi in fiore del centro storico di Acireale, sfilate di carri infiorati, bande musicali internazionali, bellissimi costumi in maschera, spettacoli, artisti di strada, animazione per bambini. Il tutto in una città vestita di fiori, con mercatini, mostre, eleganti installazioni, visite guidate. Festa dei Fiori 2018, il 27, 28, 29 aprile. Vieni e tenda la fortuna con la lotteria del Carnevale di Acireale. Venerdì 27, dopo la sfilata di presentazione dei carri infiorati, concerto con l'orchestra HJO, Jazz Orchestra, Jazz Swing e ed altro ancora. Amore, non dirgli neanche dopo anni che tutti i suoi regali ti hanno sempre fatto schifo. E infatti siamo davanti al totem dei coupon, così i regali te li fanno quelle zagare, don. Geni, ma che fa te lo sei sentito? E vedi, io sono come il coupon e ti regalo ogni giorno il mio affetto. Bello! Peccato che per questo regalo scontrino per il cambio non ce n'è. Sensazionale! Dopo 30 anni Playa Mercato rinnova e fa fuori tutto con sconti veri! Fino all'80% sulla merce esposta. Veri affari su mobili, cucine, camere da letto, lampadari, articoli da regalo. Playa Mercato e a Catania in via Quicella Porto 25. Sconti veri fino all'80%, ma corri subito! Quantità limitate! Parliamo di calcio e in particolare del Palermo che torna alla vittoria dopo quattro giornate. 3-0 contro l'Avellino e secondo posto raggiunto. Sentiamo il servizio di Roberto Chifari. Era importante vincere e alla fine si è vinto. Tedino ha salvato la banchina e il Palermo ha mostrato i muscoli salendo al momento al secondo posto in condivisione con il Parma 63 punti in attesa di Frosinone e Empoli. I Rosa vincono 3-0 contro l'Avellino grazie al gol di Coronado su rigore, Lagumina su imbeccata del fantasista italo-brasiliano e poi il 3-0 nuovamente su rigore grazie al fallo su Lagumina trasformato da Traikowski. Le brutte notizie però arrivano dall'infermeria. Si fa male nuovamente Bellucci che è uscito nel primo tempo per fare spazio ad Accardi. Si fa male anche Muraschi che è uscito anzitempo in Varella e contro il Venezia Tedino recupera gli squalificati Iaglielo e Ignore ma perde per squalifica Coronado che oggi ha rimediato un giallo. Da valutare le posizioni di Zimischi, Davidovic, Balog e Posavec. Tedino appare serene e si dice convinto che nonostante le mille difficoltà il gruppo è compatto e alla fine la squadra ce la farà. Restano 5 partite che dovranno essere giocate al 100%. Adesso il rompete l'Enrique. Venerdì sera i Rosa si giocano un'altra finale a Venezia contro la squadra di Inzaghi. Mancano 48 ore al big match della 36esima giornata di campionato di serie cifra Catania e Trapani. Le ultime novità in chiave formazione da ambo le parti e il focus sulle parole del tecnico dei rossazzurri Cristiano Lucarelli. Cresce l'attesa, diminuiscono i biglietti a disposizione, Curva Nord esaurita e Massimino che si appresta a diventare una bolgia. Lunedì sera l'ex Cibali presenta la sfida più affascinante del campionato di terza serie. Quella tra Catania e Trapani non è soltanto un derby tra due squadre di vertice e tifoserie amiche. Si tratta di uno scontro che mette in palio la chance di credere ancora nella promozione diretta. È chiaro che noi abbiamo questo cammino in salita ma ci vogliamo giocare tutte le nostre carte fino all'ultima senza risparmiarsi di niente perché io caratterialmente sono così, perché la mia squadra caratterialmente comincia a essere così e soprattutto perché lo dobbiamo ai nostri tifosi, alla nostra piazza e alla società che ha fatto tanti sacrifici economici per poter permettere tutto ciò. Fronte Catania, Lucarelli ieri in conferenza stampatore del Grifo ha confermato la tesi del crederci sempre fino all'ultimo respiro. Motto mai passato di moda anche dopo il pari contro la Juve Stabia, tornato prepotentemente in auge, ora che il Lecce capolista dovrà osservare il turno di riposo. Tra Catania e Trapani sarà lotta vera, tanti duelli in mezzo al campo, primo su tutti quello tra i due bomber, quel Davis Curiale da 15 centri stagione con un passato proprio in granata ed il re di vivo evacuo che nel girone di ritorno è tornato cecchino d'aria di rigore. Interessante anche il duello tra senatori e nuove leve, l'esperienza di Pagliarullo contrapposta alla giovane esplosività di Luca Bogdan, dalla vitalità di Palumbo alla freschezza di Barisic, solo alcuni nomi ed elementi che condiranno la super sfida del Massimino. Derby siciliano che Ultima TV seguirà come di consueto da vicino nel corso di Catania Social Club, classico format del nostro palinzesto sportivo, che in occasione della sfida tra Catania e Trapani vedrà l'intervento di ospiti in studio, collegamenti live dal Massimino e le interviste dei protagonisti dalla zona mista. Chi ha smesso di sognare invece nella pallannuoto è l'equipe Orizzonte Catania che cede al Chirisci per 14 a 13 e dice addio al sogno Coppa Campioni. Le ragazze di Martina Miceli concludono così al terzo posto. Sfiorata l'impresa, cullato un sogno grande e enorme, quello di riportare la Coppa Campioni il massimo titolo europeo nuovamente ai piedi dell'Etna. Un grande cuore che però non è bastato all'orizzonte Catania. Le ragazze catanesi allenate da coach Martina Miceli si sono viste sfilare la finalissima dalle campionesse in carica del Chirisci in semifinale e si sono aggiudicate, dopo un altro difficile incontro, il terzo posto nella competizione battendo le ungheresi dell'UIPES al termine dei tiri di rigore. A segno nell'ultima gara che ha sancito il terzo gradino del podio nella competizione continentale Arianna Garibotti con una doppietta, Roberta Bianconi, Rosario Aiello, Valeria Palmieri e Claudia Marletta per il definitivo 6-6 che ha portato la sfida ai decisivi rigori. Con l'ultimo vincente tiro in rete è scoccato dallo stesso capitano con la callotta numero 3 Garibotti. Prova che ha confermato il percorso comunque positivo ed emozionante delle ragazze etné. L'orizzonte ha portato ancora una volta in alto in Europa lo standardo di Catania, riportandosi nell'elite della palla nuoto femminile di vertice e continuando un progetto che rimane ambizioso di progettualità fresca e costante. Adesso l'attenzione e l'aspirazione si concentra tutta sul campionato, obiettivo che Martina Miceli, Tania Di Mario e l'intera società intende conquistare dopo la finale dello scorso anno per ribadire la forza di un gruppo che sembrerebbe, stando ai risultati maturati soprattutto fuori dai confini nazionali, aver ritrovato lo sbalto dei tempi d'oro. E' tutto per questa edizione, grazie per averci seguito da parte mia e dell'intera redazione di Ultima TG, l'augurio di una buona serata.